questo ritorno ho ucciso un blu seba urbani seba urbani ucciso oh c'è uno un bomber oh qui lo posso spaccare ancora è morto qua eh lo so che è morto c'è è vivo ma è morto c'è un altro danni bisognerebbe chiuderle ragazzi aspettate il giorno tengo il grimaldello saliamo sul tetto sali sul tetto ah li vedo danni sono lì sotto lo vedi sotto le tè uno è vicino alla tenda dove c'è l'illuminazione aspetta ma vai di Mosin l'illuminazione forse ho ucciso uno si si ho ucciso uno l'altro sotto lo vedi danni sta portando le tende danni sono altri due tre che cazzo sono? ma i visori li tengono loro? non penso non ci vedo non ci vedo ah lo vedo lo vedo quella è la base blu ucciso uno bravo zitto ne vedo un altro ucciso no ok danni abbiamo uno che stiamo raidando stiamo tipo a 10 kg 11 è i 70 farà la verità ucciso un altro che danni uno e te dietro tenda verde in fondo dietro tenda verde ucciso da tre ragazzi per me dimmi ti sento che stai saltando danni no 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 e che bari e allora qua ha una uuuh 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 poi sono sul tetto tiachtro che in ferie danni io sto controlando sale avete fatto un altro danni ucciso Blue buu 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 un'altra volta ho fatto mardoc e occhio noi siamo praticamente tutti sopra ma quindi la cosa avevano in di tantissimi armi e calciano scosse zanzi giovani casi in macchina sono da parte delle tende medie ma stai zitto ricchione ragazzi state zitti zitto ce ne sta un zitto 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 un toio mi sta sparando perché parlo non capisco un cazzo ha su ucciso mi sparano e non capisco un cazzo perché mi stanno parlando ha su ucciso raga arriva faccio aggiornamento del software riva ma ho un certo stefano tomba ucciso mi sparano ancora mi stanno ancora sparando ci si altri due tre non capisco dove cazzo si parla se sei tu sopra il ponticello controlli con questa torre se c'è qualcuno dentro o no la torre no dani che porta che sa chi ha ok una fascia blu danni sotto il pontile danni sotto il pontile occhio occhio che non ti ho chiuso a forza facca se devo allogare di mia so che non si sta allontanando e scusa entrata da dove siamo entrati noi danni tunnel che se ho ammazzato mi ha preso mi ha preso dove ho visto sto coglione è sempre lì sotto danni dove siamo entrati noi l'inizio dove siamo entrati noi e rimane solo da nire uscire mi so e ci via la macchina per via ma questi qui sono sono logati di fronte a me raga raga ma c'è gruppo che spona sempre qui adesso 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 lo chiamo adesso lo chiamo adesso lo chiamo perché si continua a spawnare qua perché continuano spawnare qua sono morto ricano questi qui spawnano qui ci sono stati